Smontare la narrazione sulla necessità di nuove opere improntate al fossile in piena crisi climatica. Questo è l'obiettivo delle 15 associazioni ambientaliste che hanno suggellato il dossier inviato all'autorità dell'energia con il quale si è voluto evidenziare, dati alla mano, il rischio di sovraccapacità fossile dell'Italia. Usiamo meno gas di quello che importiamo, dicono le associazioni, anche grazie alla diffusione crescente delle fonti rinnovabili che tra l'altro costano anche di meno del metano. Per questo non riteniamo utile la linea adriatica della gasdotto SNAM, senza contare i costi. 2,4 miliardi che potrebbero gravare sulle bollette e quindi sui cittadini. Questa sovraccapacità non è di oggi, c'è ormai da tanti anni perché il massimo consumo di gas in Italia si è avuto nel 2005 con 86 miliardi di metri cubi, nel 2002 siamo scesi a 68 miliardi, quindi molti miliardi in meno e le prospettive sono che nel 2030, quelle ufficiali, dovremmo scendere a 58 miliardi, ma con lo sviluppo enorme delle energie rinnovabili noi pensiamo che non si andrà oltre i 50 miliardi. Quindi cosa vogliono fare con tutto questo gas? Inondare l'Italia di gas quando lo dovremo abbandonare già da oggi perché come ha detto anche Mario Tozzi loro vogliono cambiare fornitore dalla Russia, l'Algeria, il Zebagian e altri fornitori ma è come un drogato che cambia spacciatore ma è sempre drogato. Quando dicono che vogliono fare tutta una serie di nuovi rigassificatori come ieri hanno detto e loro parlo di un piano Mattei, ma Mattei ha fatto la mezzanizzazione dell'Italia 70 anni fa. Oggi dobbiamo abbandonare le fonti fossili e passare in maniera decisa alle rinnovabili. Ce lo chiedono gli scienziati i quali dicono che se continuiamo a bruciare il gas che è fortemente climalterante, 80 volte più della CO2, andiamo verso il disastro. Il segretario dell'ONU, Guterres, ha detto che stiamo andando con l'acceleratore verso un burrone. A nostro avviso è un crimine non solo ecologico, non solo climatico ma anche economico far pagare un'opera assolutamente inutile agli italiani.